Allora Allora Per caso qualcuno qua ha detto FACTIME con Croatomist Ebbene si ragazzi siamo nel primissimo FACTIME di sempre E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti In questo nuovissimo video Oggi ragazzi un video Diciamo alquanto particolare Perché è un tipo di video che in realtà non ho mai fatto Che non ho mai registrato E sono qui appunto insieme a voi Per fare un bellissimo FACTIME dove Molti dei miei fan mi hanno fatto Delle domande su Instagram tramite appunto Il box delle domande e io ho chiesto Ragazzi di farmi appunto delle domande interessanti Delle curiosità o anche diciamo Delle domande molto spinte E sconce e sono qui per Parlarvi senza filtri quindi sarò qui oggi Con voi a sosteggiarmi un po' del mio carissimo Te e andremo a leggere insomma Le domande che mi hanno fatto che mi avete Fatto su Instagram e andrò a rispondere Con tutta sincerità peraltro mi sono fatta Tutta carina anche con la camicetta E poi mi sono fatta anche la coda Un tipo di acconciatura che a me non piace per niente Ma dato che fa estremamente caldo Ho detto facciamo la coda così sono bella tranquilla Ma ora ragazzi direi di Prendere il nostro tè Levare il cucchiaino Diamo un sorso Che buono E possiamo iniziare con La prima domanda del FACTIME Io vi ricordo ragazzi che se non l'avete ancora fatto Potete iscrivervi al canale Attivare la campanellina per ricevere una notifica Ogni volta che carico un nuovo video E mi raccomando Spolliciata più non posto Per farmi capire se questa tipologia di video Può piacervi o meno Spolliciate se volete altri video di questo genere Mi raccomando Fatemi levare la cover sinceramente Che mi dà particolarmente fastidio E possiamo iniziare Allora Andiamo subito con la prima domanda di oggi Che viene fatta dal signor Manu18 Avete mai fatto la doccia insieme tu e Giorgia? Ovviamente sì Cosa c'è di sono nel farsi la doccia insieme a un'altra persona? Non vedo problematica Quindi la risposta è sì In realtà questa è una cosa che mi chiedete tutte le volte Laio e Marti ma tu fai la doccia con Giorgia? Sì ragazzi Sì Non c'è nulla di strano ok? Non è una cosa strana o sconcia Sì La risposta è sì Ok? Semplice e conciso Passiamo alla seconda domanda Che viene fatta dalla signorina Sofia Caporaso Che ci chiede Avete mai visitato un sito sconcio? Secondo te Sono una ragazza Posso mai visitare un sito sconcio? O fare cose sconce? Ma la risposta è sì ragazzi Ma ovvio Allora Dobbiamo finirla con questi tabù E con queste chiusure mentali Vedo tantissime ragazze Che probabilmente lo fanno un po' per paura Un po' per essere giudicate Perché purtroppo in questa società Tendenzialmente si viene giudicate Se siamo donne su determinati aspetti E la risposta ragazzi ovviamente è sì Perché anche noi donne guardiamo le cose sconce Anche noi donne facciamo le cose da sole per i fatti nostri Non so se lo sapevate ragazzi Ma ovvio Come le fate voi Le facciamo anche noi Passiamo alla prossima domanda Un attimo che sorseggio Il signor Just Alex Ci fa la seguente domanda Che sembra una domanda molto seria Hai fatto altri lavori prima di iniziare a fare video Slash streamare? Ho una bella domanda A cui mi piace rispondere Che in realtà Per le persone che mi seguono sul canale Viola Tutti i giorni Sanno benissimo Che comunque io Ho sempre raccontato queste Diciamo queste cose Il mio passato Lavoro eccetera eccetera Quindi mettiamoci anche Qui su YouTube A raccontare insomma Il tutto Prima di iniziare a fare video Di streamare O comunque lavorare sui social Sì assolutamente Ho lavorato Ho fatto altri lavori Considerate che ho iniziato a lavorare Se non sbaglio Quando avevo appena compiuto 18 anni O 19 anni Che mi ero trasferita appunto Con mia madre Il suo ex ex compagno E dato che appunto Non si viveva nel loro E diciamo C'erano molti problemi economici Mi sono cercata subito il lavoro Per cercare di dare una mano Comunque a mia madre E il primo lavoro Che ho iniziato a fare È stato il lavoro Da call center Ho lavorato in un call center Dove vendevamo Cioè promuovevamo Prodotti per la medicina Diciamo estetica Quindi per i dottori Dentisti Farmacie Parafarmacie Dermatologi Quindi stavo lì Tutti i giorni 8 ore ogni giorno A chiamare Con la speranza di fare appuntamenti E non sempre andava bene Considerate che guadagnavo Esattamente 3 euro Allora Lordi Ragazzi 3 euro Lordi Allora E abitavo in Umbria Quindi non hai dici proprio sud No 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 Proprio C'è veramente Una miseria Una miseria che però Comunque mi faceva comodo Portare a casa Perché comunque Il mio obiettivo era quello Di aiutare mia madre Quindi io ogni mese Quando prendevo lo stipendio Che era tipo di 300 euro Prendevo 150 euro Li davo a mia madre Comunque per aiutarla Con le spese di casa Con l'affitto Con la spesa Poi Dato che i soldi Purtroppo non bastavano Ho iniziato a fare un secondo lavoro Insieme al lavoro del call center Che era quello di andare a lavorare Appunto nelle agenzie di pulizia Quindi andavo a lavorare Appunto a pulire le banche A pulire i musei I teatri Queste cose qua Un lavoro stancante Che mi pagavano anche lì 5 euro lordi Allora A volte 4 euro Però lo facevo Proprio per dare una mano A mia madre Perché come ho detto Non viviamo nel loro E in una casa bellissima O diciamo Di lusso O robe varie Non potevamo permetterci sempre Di fare la spesa E comprare quel cazzo Che volevamo per mangiare E anche se mia madre Cercava di fare il possibile Per non farmi mancare niente E quindi sì Questi sono i due lavori Che ho fatto E poi ho iniziato appunto A fare video Su youtube Ma comunque principalmente Streammare sul canale viola Che ormai il mio lavoro ufficiale Da 4 anni Esattamente intorno al 2018 E fortunatamente Per mia bravura Per mia Pongo simpatia Modo di intrattenere Sono piaciute alle persone Di questa cosa Ne vado molto molto fiere E non smetterò mai Di ringraziarvi Perché dove sono oggi È sicuramente Sì grazie a me Ma grazie a voi Forse mi sono dilungato Un po' troppo Però mi ero preso Un attimo nel discorso Perché comunque È un discorso serio A cui mi sta molto molto a cuore Quindi spero che non vi abbia Diciamo annoiata Passiamo alla prossima domanda Che ci viene fatta Da Matteo Paro 02 Che ci chiede Prima latte o cereali Allora Devo essere sincera con voi So che molti In genere mettono Prima il latte E poi i cereali Io sinceramente Ho sempre messo Prima i cereali E poi il latte Perché Vi spiego il perché A me il latte purtroppo È uno di quegli alimenti Che mi ha sempre fatto troppo male Dato che comunque Soffro di problemi di intestino E quindi il latte Non posso berlo Di conseguenza Mettevo i cereali In modo tale che poi Andavo a mettere Il latte dopo E quindi il latte Era comunque minore Rispetto ai cereali Prossima domanda Che ci viene fatta Da Lobby05 Che mi chiede Sei mai inciampata In pubblico Allora Inciampata no Però caduta sì Quindi diciamo Il discorso è sempre quello Mi ricordo che ero andata Con mia nonna Alla villa Con la mia bicicletta E stavo facendo Il mio solito percorso Di rettilineo E tornare indietro Blablabla Fino a quando Non ho visto Un gruppettino di ragazzi Che peraltro Ce n'era uno Che da piccola Mi piaceva tantissimo Era un gran figo Posso dirlo tranquillamente E volevo fare Anch'io Di conseguenza La figa Quindi cosa faccio Ero in questo rettilino Con la bicicletta Mi metto tutto il corpo Di un lato Ok quindi con le gambe I piedi Tutte tipo a sinistra Non riuscivo più a pedalare Ho perso il controllo Della bicicletta Perché volevo fare vedere Tipo che Sabevo fare i trick Una stuntman incredibile No Sono finita Per sbattere Completamente Contro un palo Brava Martina Altra domanda Dalla signorina Sophie is stranger Hai mai fumato? Sì ho provato a fumare Le sigarette Inizialmente non mi piacevano Per niente ragazzi Proprio l'odore La puzza Proprio zero Quindi sì Ho provato a fumare Qualche pacchettino di sigaretta Ma non ho mai Diciamo aspirato troppo E alla fine Finivo sempre per regalare Le sigarette a mio padre Se mi stai chiedendo Se ho fumato qualcos'altro Sì ho provato Due volte Tre forse massimo Solamente che avevo mixato Il tutto anche con l'alcol E non è finita molto bene Fortunatamente ero a casa In buona compagnia E con persone fidate Anche perché Se no non avrei mai provato Fuori casa Domandina da Ti magno la nutella Dolce preferito? Cheesecake E frutti di bosco O alla fragola? Penso che ne vado Veramente matta Cioè è letteralmente Il modo migliore Per conquistarmi Anche se non l'hai metto Dato Giorgia Ma lasciamo perdere Quindi cheesecake Kat ci chiede Il tuo più gran difetto Ma il mio più gran difetto Penso che sia Il fatto che io sia No Il fatto che io sia Vabbè Bello questa ripetizione Penso che sia La questione Che io Si Ragazzi Sto dicendo solo sia Ma ho un problema Cioè Non riesco a parlare Dai Sono una persona Che si affeziona Troppo facilmente alle persone Forse una volta ancora di più Ora che sono cresciuta Comunque che vado Quasi per i 27 anni Mi affeziono Meno O meglio Mi affeziono sempre alle persone Ma faccio molto più attenzione E riesco a distinguere Quando una persona Magari ha doppi fini O altro Mentre quando ero più piccola Magari facevo difficoltà Ma è normale Sono cose che impari Ovviamente Con le esperienze E col passare degli anni Penso che il mio più gran difetto Sia quello di affezionarmi alle persone E non riesco a dimenticarmene facilmente A meno che non mi ha fatto Un grandissimo torto In quel caso Sei Morto Fede ci fa un'altra domanda Qual è il tuo personaggio Preferito di Naruto Sono troppi Io amo Naruto Io vivo per Naruto E credo che si noti Nella mia collezione Che ho qui Ok Credo che si noti Però direi Obito Itachi Sasuke Sono i miei preferiti In assoluto Obito poi soprattutto Quindi sì Ne ho tre Se devo scegliere uno Obito Andiamo alla prossima domanda Che ci viene fatta Da Davide 104 Va bene A scuola tiburizzavano Purtroppo sì Ci ho sofferto anche parecchio Magari questa è una domanda A cui risponderò Se volete in un altro video Perché ci sarebbe un discorso Veramente molto molto lungo da fare Molto specifico E un discorso che Mi sta molto a cuore Perché è stato abbastanza traumatico Per me Visto che ho sofferto Veramente tanto Nel corso Comunque degli anni Di quando ero appunto una teenager Quindi magari Se vi fa piacere Ve ne potete parlare In un altro video Per evitare che questo video Diventi troppo lungo Nel caso vogliate un video Dedicato a questa domanda Fatemelo sapere nei commenti Che è il modo migliore Per farmelo capire E andiamo con l'ultima domanda Forse la più importante Di oggi Che ce la fa il signor Gabri XR Un saluto a Gabri Quanti bambini Hai in cantina? No 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 Come fai a sapere Come fai a saperlo? Come No No Bene ragazzi Siamo aggiunti Al termine di questo video Direi che ho risposto A tantissime domande In realtà mi sono conservata Qui sul telefono Tante altre domande Che mi avete fatto Però non posso fare Tutti in un video Perché sennò diventa Una cosa enormemente Lunghissima Che diventerebbe Noiosa Quindi Se questo fact time Vi è piaciuto Mi raccomando Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti E spolliciate appunto Per farmelo capire E se Dovesse piacere appunto Questo tipo di contenuto Non sarà un problema Non sarà un problema per me Riportare un secondo video Del fact time Con domande Ancora più interessanti Più spinte E anche diciamo Domande molto molto serie Quindi mi raccomando Fatemelo sapere Dipende tutto da voi Ovviamente ragazzi Non vi siete ancora iscritti al canale Mi raccomando Iscrivetevi adesso Cliccate la campanellina E se vi fa piacere Potete passarmi a salutare Anche quando sono in live Sul mio canale Viola E mi trovate lì Tutti i giorni dalle 16 E trovate il link Del mio canale Qui sotto In descrizione Detto ciò ragazzi L'ultimo sorsettino Un po' di tè Bello fresco Noi ragazzoni Ci becchiamo In un prossimo video Dalla vostra Croatomist E tutto Bella a tutti ragazzi